Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi e oggi vi porto un nuovo invito ragazzi A un money lobby che farò domani su PS3 Quindi avrete 24 ore di tempo per poter scrivere partecipo sotto questo video E nulla, aggiungetemi, lascerò il nick sotto il video Per chi fosse interessato ad avere soldi in PS3 Quindi andremo a fare questa lobby e distribuiremo soldi a chi ne ha bisogno Dovete iscrivervi al mio canale e dovete iscrivervi a quest'altro canale Che adesso vi farò vedere la pagina A questo canale qui Vi lascerò il link in descrizione E nulla ragazzi Quindi io vi aspetto tutti quanti domani alle ore 15 e 30 pomeridiane ragazzi Quindi ricordatevi domani sabato alle 15 e 30 pomeridiane Ci sarà questa money lobby in cui potrete avere un pochino di soldini insomma E nulla Se riusciremo a fare non so un minimo di 10 Magari farò anche una mini lobby oggi pomeriggio Un minimo di 10 persone però ragazzi Non di più E cioè non di meno Altrimenti è un casino Vabbè detto questo Vi ricordo di iscrivervi ai canali E un saluto a tutti Al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti